Chi vince questo festival? Irama O Irama o Arisa Perché non mi dispiace la canzone, è carina Federica Carta con Shade, molto bella E anche Il Volo Forse le tre più belle ma anche Ultimo, anche Irama, ce ne sono tanti Però quella che mi piaciuta di più è Loredana Bertè, fantastica Chi vince? Ultimo Ultimo Tutta la vita Irama è Ultimo Ultimo, ultimo Achille Lauro Aspetta che stanno dicendo Achille Lauro Beh, Achille Lauro No, aspetta La domanda Achille Lauro, anche io Chi vince questo festival? Spero Ultimo Perché giustamente so di Roma e spero che vinca Ultimo Ultimo, cosa canzone I tuoi particolari Poi anche uno bravo Achille Lauro Irama, pure una bella canzone Secondo me Loredana Bertè Anche se io preferisco Nino D'Angelo È il più grande Chi deve vincere? Il Volo Cosa ti piace di quei tre? Tutto di loro A parte che sono belle e cantano benissimo Mi piacciono tanto tutte le sue canzioni Chi secondo te dovrebbe vincere? Beh, il mio podio è sicuramente Silvestri, Cristicchi e Zen Circus Magari qualcuno di questi sul podio ci arriva A me piace tantissimo Irama Sinceramente E poi, per carità, se il volo, il volo è sempre volo, eh? Perché loro rimangono sempre grandi, è fantastico Per me il volo, anche perché sono ragazzi preparati, semplici e umili Secondo me è Enrico Nigiotti La canzone ti è piaciuta? Sì, molto Molto Sono Hollywood, bella, bellissima Io dico Irama perché è proprio bella la canzone Però mi piacerebbe una volta tanto la Bertè Perché ha carisma e poi è una grande Vi è piaciuto il festival quest'anno? Sì Diverso dagli anni scorsi, quindi molto, molto bello Sì, diciamo di sì Quest'anno l'ho seguito meno di altri anni, però è carino Sì, anche a me è molto bello, bello Interessante, devo dire interessante Il baglione è grande Promossi a pieni voti tutti e tre Beh, c'è Claudio C'è Claudio per forza Tutto ciò che tocca Claudio diventa oro Grazie a tutti